Nel giorno della liberazione di Grosseto in cui si commemora questo evento, Ampi Provinciali insieme all'ampi sezione di Grosseto-Garlanespolo ha organizzato un incontro per parlare non solo della giornata odierna ma anche del centenario della marcia su Roma, 1922-2022. È una ricorrenza da questo punto di vista certamente amara, quella del centenario del 1922-2022, ma è una ricorrenza assolutamente fondamentale. L'ampi va a memoria attiva, dalla memoria attiva discende la consapevolezza. È importante quindi per questa ragione ricordarsi che la democrazia e la libertà non sono dei principi astratti, sono esattamente ciò che ci consente di vivere liberi, ci consente di vivere da cittadini e non da sudditi ed è importante preservarli. Sempre lui, perché Mussolini non muore mai? Questa è una domanda che si è posta Sara Lucaroni. Qual è la risposta? La risposta è piuttosto semplice ma allo stesso tempo molto complessa. La verità è che Mussolini nel nostro paese è sempre mainstream, è come se non se ne fosse mai andato. I motivi in realtà possono essere tanti, perché la scuola non ce lo racconta, perché c'è incertezza, paura per il futuro, perché la politica sembra si sia allontanata dai cittadini e dai veri bisogni dei cittadini. E questo non fa che continuare a evocare un fantasma che è quello dell'uomo forte. La verità è che Mussolini e il ventennio è come se non se ne fossero mai andati realmente.